Buon sabato sera a tutti ragazzi sono Orcuverde In questo video vi mostrerò un nuovissimo super money glitch urgente Per diventare ricchi su gt online in pochissimo tempo Questo money glitch non è un money glitch per duplicare auto Ma è una cattura moddata che vi permette di diventare ricchi giocando in solo round Prima di cominciare vi invito a bombardare, a distruggere, a disintegrare questo video di pollice in su Grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito La prima cosa che dovete fare è scaricare la cattura moddata tramite il social club Lascerò il link della cattura moddata nella descrizione di tutto questo video Questa cattura moddata c'è solamente su ps4 Perciò solo i giocatori che giocano a gt online su ps4 potranno sfruttare questa cattura moddata per diventare ricchi su gta online Una volta fatto ciò dovete ricarvi in una sessione di gt online Dovete aprire il menu di pausa Dovete andare su online, attività, avvia attività, preferite, cattura E dovete avviare la cattura moddata che avete appena scaricato tramite il social club Che si chiama Money PNG Drop 2 Nelle impostazioni della cattura moddata su condizioni per la fine dovete impostare tutti i punti Cosicché il round non terminerà quando scadrà il tempo Ma terminerà quando voi consegnerete le valigette alla propria base Facendo così durare il round all'infinito quanto volete Fatto ciò confermate le impostazioni Invitate almeno un vostro amico che dovrà unirsi per poter iniziare la cattura moddata In questa cattura moddata possono partecipare minimo 2 giocatori Fino ad un massimo di 6 giocatori Dopodiché dovete andare su gioca Poi mettete pronto a giocare E quando la cattura moddata sarà iniziata Quello che dovete fare è raccogliere le armi che trovate davanti a voi Uccidere le persone, i motociclisti che esponeranno E passare sui loro cadaveri Ogni motociclista che ucciderete lascerà cadere 10.000 dollari I motociclisti vi verranno incontro in quanto cercheranno di picchiarvi Però state tranquilli che non vi uccideranno In quanto vi faranno davvero poco e nulla di danno E potete continuare a fare ciò fino a quando non sarete soddisfatti Dei big money che avete guadagnato Quando sarete soddisfatti dei big money che avete guadagnato Durante la cattura moddata Dovete aprire il telefono E dovete abbandonare la cattura moddata Quando sarete esponati in sessione in free mode I soldi che avete guadagnato durante la cattura moddata Vi rimarranno Quindi mi raccomando Orchetti Sbrigatevi a sfruttare questa cattura moddata Per diventare ricchi su GTA Online Prima che Rockstar la eliminerà Se Rockstar dovesse eliminare questa cattura moddata Lo scriverò nei commenti sotto al video Ripeto che trovate i link della cattura moddata Nella descrizione sotto questo video Quindi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel pollice in su Un commento Iscrivetevi al canale Condividete il video E da Orchover Tutto ci vediamo al prossimo video Bella